1,2, 3, 2, 1 Eccolo qua, guardate, guardate, bravissimi, queste del fine qua, queste del fine, dove la compagno, se mi piace, questa è la grande parte del fine, è la grande parte del fine e la grande parte del fine, è la grande parte del fine, è la grande parte del fine Grazie a tutti.